Musica Cari telespettatori questa sera dedichiamo un approfondimento alle buone prassi di comportamento in caso di terremoto e ne parliamo con il vice sindaco del comune di Fano, Cristian Fanesi, buonasera e ben ritornato nei nostri studi Buonasera, buonasera a tutti E con Saverio Livi, presidente della CB Club, Mattei, buonasera Prima di entrare però nel dettaglio di questo importante tema, vi facciamo sentire le interviste ai Fanesi che ha realizzato Cristiana Guerra questa mattina dopo le prime scosse di terremoto Lei ha avvertito stamattina il terremoto? Sì, fortissimo, in genere è difficile che io senta temporaloni, cose varie, però questo terremoto è stato molto forte, molto forte Era ancora letto? Io ero ancora letto nel dormiveglia, a un certo punto ho sentito uno sbattocchiamento, ho capito immediatamente che si trattava del terremoto e ho fatto quello che fanno tutti, ho aperto le porte e ho aspettato e c'è stata anche una successiva scossa, meno forte e questo è quanto Voi siete di Torino ma riuscirete a partire? Speriamo di sì, per adesso non ci sono niente notizie perché stanno controllando eventualmente la linea tra Rimini e Senigallia, mi sembra Quindi le notizie le avrete più tardi? Le notizie le avremo più tardi, adesso dobbiamo prendere il pullman per ritornare a casa Siamo di retta a Montemarciano, Senigallia, la prima stazione utile, quindi aspettiamo il treno ma in teoria passa fra due orette quindi aspetteremo qua due ore perché abbiamo visto che il treno che avremmo dovuto prendere è stato cancellato Il treno dalle 11.10 per Bologna è stato cancellato, adesso? Adesso aspettiamo, aspettiamo o vediamo eventualmente di poter andare su con l'autobus Dove siete diretti? A Bologna Ha avuto dei ritardi? Sì, dal treno delle 8.20 l'hanno annullato, adesso stiamo aspettando quello delle 11 Sperando che non l'abbiano cancellato, siamo venuti a vedere, un po' di disagio c'è stato, sì Ho soltanto visto, ho sentito un gran rumore, ho cercato un elicottero che non c'era e ho visto tutti i motorini che si muovevano Poi dopo non mi sono accorta più di niente Molta paura, la gente che è venuta fuori da tutte le porte, ma io non ho sentito niente Lei dove era stamattina alle 7? Ero a casa e mi stavo preparando per andare a scuola, sinceramente sono rimasta veramente scioccata Ancora ho un'adrenalina addosso che devo smaltire, infatti ho preso la bicicletta fortunatamente che c'è una bella giornata Non ho mai provato una sensazione così forte Lei sta al primo piano oppure piano terra? No, il piano terra, il primo piano, quindi anche in alto, però questa volta veramente è stata molto forte Lei era in casa stamattina alle 7? Sì, noi siamo di San Costanzo L'ha sentito molto bene le due scotte? Molto bene, molto bene, sono caduti anche dei quadretti dalle pareti, le bambine si sono spaventate tantissimo, è stata una cosa molto forte Cos'è la prima cosa che ha fatto, distinto, è uscita? Sono andata a vedere loro perché erano ancora a letto e poi no, non siamo usciti, noi siamo a piano superiore, abbiamo anche una casa, dai, da un certo... Poi dopo è passato, ci siamo vestite velocemente, mio marito è andato al lavoro e poi noi siamo uscite, eccoci Vi ha lasciato spavento? Ho lasciato molto spavento, signora, sì, molto Tanto più alla mia piccola perché oltre ad essere caduto un quadretto in testa che aveva vicino ma giustamente il bambino ha fatto difficoltà nel capire, nel comprendere tutti che c'entra Perché poi nel risveglio, quindi anche quello è stato molto brutto Ovviamente oggi i bambini non sono andati a scuola Scuole chiuse, sì, noi siamo di San Costanzo, quindi il comune di San Costanzo è arrivato il messaggio subito nella chat pochissimi minuti dopo che le scuole sarebbero state chiuse E oggi noi dormiamo nella roulotte perché abbiamo una roulotte parcheggiata davanti a casa che siamo tornati da un weekend e quindi oggi, sai, un po' per stemperare la tensione, un po' per sicurezza dormiamo lì, quindi ci sentiamo più al sicuro Io mi sono svegliato e ho visto che tutto tremava, ho detto, oddio cos'è, magari pensavo qualcuno che usava qualcosa, invece no, visto che si muoveva tutto, era un terremoto, mi sono messo sotto il tavolo in modo che così, in caso cadesse qualcosa, non poteva succedermi niente E la scuola poi? La scuola ha chiuso, sono arrivato a scuola e hanno detto gli insegnanti, guardate non c'è scuola, potete tornare a casa Mi sono svegliato e ho visto che la parete che tremava e poi anche il termosifone, che altro? E' stata una scorsa veramente, veramente forte Un trauma pazzesco, perché ero a letto, erano circa le 7.10, mi tremava tutto intorno, sussultava il letto, il lampadario che ballava avanti e indietro, un rumore di fondo tremendo Mi sono alzata e ho chiamato mio marito che dorme in un'altra stanza, dico guarda, mentre arrivavo lì è arrivata l'altra scossa e mi sono dovuta tenere alla ringhiera perché non riusci, guardi, tremavo Una cosa tremenda è stata Ecco, queste sono alcune delle testimonianze, dunque Fanesi facciamo un attimo il punto per la giornata di domani, le scuole abbiamo detto saranno chiuse, giusto? Domani tutte le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse nel comune di Fano, questo ha lo scopo di, per quanto riguarda il comune di Fano, finire i sopralluoghi Terminare i sopralluoghi che abbiamo iniziato già da questa mattina, quindi continuare questi controlli che facciamo in maniera speditiva in tutti gli edifici pubblici In particolare in questo caso le scuole e in più ci saranno dei piccoli lavori, piccoli interventi di ripristino che sono necessari Sono lavori di ripristino non strutturali ma che comunque sono necessari che inizieranno sin da domani mattina con tutte le ditte che abbiamo a disposizione E che si concluderanno a breve e dunque questo è per quello che riguarda le scuole Diciamo che manteniamo questo profilo prudenziale che abbiamo sempre avuto e che abbiamo condiviso anche con i sindaci dei comuni più grandi Ancone e Pesero che sono stati come noi colpiti da questo terremoto Dopodiché i controlli, le analisi che abbiamo fatto ci rendono tranquilli nel poter invece per quanto riguarda gli altri edifici pubblici comunali Tenere tutto, che consideriamo tutti riaperti, quindi tutti riaperti i servizi comunali Tranne il piano primo del municipio che non sarà riaperto domani mattina in quanto parzialmente inagibile per una parte Ma soprattutto perché vorremmo continuare su tutto l'edificio comunale a fare un'analisi, una ispezione più accurata dei tetti Quindi lo apriremo tutto al municipio centrale, a sede via San Francesco d'Assisi, tranne il primo piano E dunque il resto sarà tutto aperto, quindi anagrafe, servizi cimiteriali, stato civile, eccetera, saranno tutti servizi aperti Resterà chiuso anche il museo civico e la biblioteca, le biblioteche anzi E rimarranno chiusi, al fine di finire le verifiche che abbiamo iniziato, tutti i circoli ricreativi di proprietà del comune di Fano E dunque questi saranno tutti chiusi Oltre a questo ci sono le palestre scolastiche che ovviamente sono collegate alle scuole e quindi rimarranno chiusi nella giornata di domani Domani pomeriggio crediamo di poter fare anche un punto della situazione e annunciare, speriamo di poter annunciare che saranno tutte riaperte venerdì Però questo lo vedremo domani dopo che i lavori andranno avanti I cimiteri invece? I cimiteri sono aperti, saranno aperti, oggi sono stati chiusi per precauzione Si sono svolti comunque purtroppo le esequie che non si poteva fare a meno di fare E quindi i funerali sono stati fatti, però i cimiteri sono stati chiusi Domani saranno aperti senza nessun tipo di problema Non sono comunque escluse nuove scosse, l'epicentro in mare ha scongiurato il peggio Non è andata invece così nel 2016 quando si registrarono danni ben più gravi? Sì effettivamente prima cosa, comunicazione tra virgolette importante Noi abbiamo allestito già per questa notte una palestra dove potremmo accogliere le persone che hanno problemi Al momento non ci sono state segnalazioni importanti Quello che è successo nel 2016, noi eravamo molto più lontani rispetto all'epicentro di oggi Perché l'epicentro era diciamo nei Sibillini e quindi molto lontani da noi Però effettivamente i danni furono diversi, forse anche superiori per certi aspetti Nel 2016 chiudemmo un'ala del Comune di Fano come questa volta Ma dovemmo intervenire anche nei Campanili, quello di Piazza e quello di Ponte Metauro Che ovviamente in questo momento sono a posto e quindi sono stati ripristinati la volta scorsa E in più siamo intervenuti in una chiesa Santa Maria Nuova che è di proprietà comunale per sistemare il tetto Quindi devo dire che per fenomeni anche di trasmissione io credo delle onde della forza sismica In questo caso nonostante sia stata forte la scossa Il Comune di Fano ha avuto meno danni rispetto a quello che poteva essere in altre situazioni O comunque quello che è stato nel 2016 Si è sentita molto bene però alla luce dei fatti al momento penso di poter dire che i danni sono stati inferiori E quindi siamo stati tra virgolette fortunati ad avere questa situazione Forse lo sviluppo del terreno venendo dal mare insomma ha creato le condizioni Forse anche rispetto ad esempio a un ultimo terremoto importante che c'è stato a fare nel 1930 Il patrimonio edilizio è molto migliorato e ci mancherebbe altro Però nel 1930 ci fu un terremoto molto importante anche in quel caso A largo di Fano, tra Fano e Senigallia in quel caso Però ecco diciamo quella volta ci furono molti più danni Case vecchie certamente Tra l'altro ricordo per i fanesi che conoscono bene la città Ad esempio l'amministrazione comunale nel 1930 è stata costretta a togliere alcuni tetti in alcuni edifici pubblici Tra queste la chiesa di San Francesco Quindi fu un bel terreno Ecco Saverio bisogna essere sempre pronti E Fano lo è anche grazie al gruppo di protezione civile Lo è anche grazie ad un piano di emergenza comunale Da chi è stato predisposto e in che cosa consiste concretamente? Beh un piano di emergenza il comune di Fano ce l'ha da tempo E' uno dei più datati ma è stato rivisitato in pratica qualche anno fa E proprio in questi giorni si parlava appunto di aggiornarlo di nuovo E' un piano che prevede tutte le possibilità coinvolge dal terremoto all'alluvione E' importante che ognuno sappia quello che si deve fare Per la popolazione è molto importante Visto anche l'abbiamo fatta proprio domenica a Gimarra Un'esercitazione importante che la popolazione sappia Come in questo caso, come è successo questa mattina Se non ci fossero state le comunicazioni E si fosse verificato il peggio Le persone devono sapere dove 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 dover andare Quindi le cosiddette aree di attesa Esatto, le aree di attesa Devono, il consiglio è andare sul sito del comune di Fano Vedere la propria via, la propria zona E portarsi esattamente in quel punto Perché in quel punto anche stamattina Noi e non solo noi Siamo andati a verificare se delle persone Erano nell'area di attesa Che avevano la necessità Anche perché quando ci siamo svegliati Non sapevamo quella intensità Non sapevamo dove era l'epicentro In pratica poteva essere sotto casa Come come Poi pian piano ci siamo resi conto Che era da noi, vicino Ma che le condizioni erano Abbastanza tranquille Ci fermiamo un attimo Perché dobbiamo andare in pubblicità E poi torniamo a parlare anche Dei comportamenti da tenere E da non tenere in questi casi A tra poco Assicura la tua casa da ogni imprevisto Proteggi la tua famiglia per un domani sereno Viaggia sereno con Unipol Sai Scegli la comodità di pagare rate Agenzia Anibali e Associati In via delle Querce e zona ex Zuccherificio a Fano E in via Mameli Centro Benelli a Pesaro Vieni a conoscere Unipol Move L'alternativa nel mondo del telepedaggio Daikin Comfort Store è l'unico vero punto vendita dove puoi trovare una completa esposizione delle soluzioni Daikin E soprattutto un'elevata competenza e professionalità Prodotti per la climatizzazione e il riscaldamento Sistemi ibridi Pompe di calore e pannelli solari Daikin Comfort Store Via Roma 104 Fano Baccarà Centro Bellezza Un ambiente caldo e accogliente Dove rigenerare corpo e spirito Professionalità e tecnologia all'avanguardia Per trattamenti personalizzati I risultati eccellenti Centro Bellezza Baccarà Via Cavour Fano Da Claudia Sport Uomo, donna e bambino A Fossombrone In via Garibaldi Oh micciolino Gli occhiali per ogni bambino Via Flaminia Calcinelli Apice In cima ai tuoi sogni Siamo di nuovo negli studi di Fano TV Saverio, il COC è ancora aperto? Sì, il COC è ancora aperto In stand by E credo che chiuderà quando sono finite veramente tutte le emergenze Quando siamo sicuri che tutto è stato fatto È stato un duro lavoro stamattina? Beh, diciamo che il COC del Comune di Fano Dopo della bomba Volevo dire dopo della bomba È un COC che risponde puntualmente In pochi minuti Cioè sono arrivati i primi dirigenti del Comune Che io che abito a 500 metri Cioè in pratica veramente funzionale Non mancava veramente nessuno In ogni funzione era coperto in tutte le sue parti E avevate predisposto anche le palestre? Sì, sono state reperite subito le chiavi di tutte le palestre Dei mezzi comunali Per far sì che tutti potessero muoversi Per fare i sopralluoghi negli edifici E appunto le chiavi della palestra Perché qualora si doveva essere necessario Utilizzare la palestra come è stata con la bomba Con coperte, con brandine e tutto Già in pratica il piano era stato predisposto Ecco, oltre al piano di emergenza comunale C'è anche una campagna della protezione civile A livello nazionale Denominata Io non rischio E che punta a promuovere una cultura della prevenzione A favorire un approccio attivo nella riduzione dei rischi Di che cosa si chiama? Sì, esatto Tutti gli anni la campagna è un rischio In pratica insegna le buone pratiche ai cittadini Perché la prima persona in protezione civile Che può aiutare la protezione civile ad essere attivo È proprio il cittadino Quindi vi faccio l'esempio di stamattina Stamattina ho avuto qualche critica su qualche social Dicendo che Massimo Foghetti Quando faceva la resegna stampa È scappato ma doveva andare sotto il tavolo In effetti Massimo è andato sotto una colonna portante Come dovremmo fare noi a casa Perché il tavolo dove era Massimo stamattina è di vetro Quindi andare sotto un tavolo di vetro Più che pericoloso Invece si è portato Come devono fare tutti i cittadini Sotto un muro portante E abbastanza spesso Questo è importante Poi in caso di terremoto Devono stare lontani Quando si esce su strada dagli edifici Io stamattina Venendo al cocco Ho parcheggiato la macchina In un angolo lontano dagli edifici Perché bisogna prevedere anche questo E poi bisogna recarsi Come dicevamo prima Nelle aree di attesa Non bisogna prendere l'ascensore Se si abita ai piani superiori Ma eventualmente In un attimo di calma Fare le scale Altre piccole cose Che prevede Ad esempio Io non rischio E nel non mettersi Alla sera a guardare la televisione Stegi sul divano Con la testa appoggiata Sul bracciolo del divano Quando a fianco abbiamo una vetrina di cristallo Oppure mettere sopra i mobili Il trofeo Della gara vinta Da giovane Quando può cadere in testa Che a volte non ci si pensa Sono esattamente Piccole cose Oppure In cima al letto Un bel quadro pesante Perché Queste sono tutte piccole Prassi Che sono necessarie Come ad esempio È molto necessario Avere una torcia Una lampada A batteria Dentro la camera O dove vanno esattamente tutti Anche i bambini Bisogna insegnarglielo E tranquillamente Avere anche una radio La transistor Perché se fosse stato Non stamattina alle sette Ma nel pieno della notte Senza luna Senza nulla La pila E per avere informazioni Se cadono le comunicazioni Sono cose importanti Ma questo Molto probabilmente Anche l'assessore Cristian Fanesi Eravamo già d'accordo Dopo Già da domenica scorsa Quando abbiamo fatto Le citazioni all'azilla Nel portare a conoscenza A piccole dosi Anche tramite Fanno TV Giornali Piano piano Di informare Su queste piccole Buone prassi Che sono fondamentali Ecco Domani mattina Ci sarà una nuova riunione Farete il punto Della situazione? Sì La situazione Verrà aggiornata Domani mattina Diciamo Prima di pranzo Immagino Per capire Se venerdì Riusciremo ad aprire Tutti gli edifici Che abbiamo lasciato chiuso Questa sera E quindi sicuramente Questo aggiornamento Verrà fatto I tecnici Nel mattina Appena è possibile Sarà possibile Continueranno I loro monitoraggi Abbiamo creato Squadre di tecnici Che due a due Sono tutti ingegneri Geometri Comunque c'è un tecnico Qualificato Comunque sempre Anche dal punto Di vista strutturale Che girano Per i nostri Per i beni Pubblici E vanno a verificare Che tutto sia a posto E quindi Ci aggiorneremo Subito Dopo O poco prima L'ora di pranzo Vorrei Sottolineare Che oltre Al comune di Fano Il ringraziamento Va a chi Ai tecnici Del comune di Fano Che certamente Hanno dato una grossa mano Ma anche i volontari Del CP Club Mattei Che questa mattina Come si diceva prima Già giravano Alle prime ore Per verificare Se c'erano dei problemi Alla pulizia locale Eccetera eccetera Però Ecco Diciamo Un ringraziamento Va in particolare Anche ai mezzi Di comunicazione Come Fano TV Perché stamattina Ha permesso Di poter dare In maniera Anche molto veloce E molto Anche trasparente Una comunicazione Adeguata A tutti i nostri Concittadini E quindi Vi invito a seguire I canali social Le tv Le radio Eccetera Per essere Aggiornati E quindi Ricevere l'informazione Domani mattina Assolutamente Sì Grazie E noi appunto Vi terremo aggiornati Sia su social Sia sul sito Internet Occhialanotizia.it E logicamente Nell'edizione Delle 20 e 30 Di domani sera Grazie ancora A Cristian Fanesi Vice sindaco Del comune di Fano E a Saverio Olivi Presidente del CB Club Mattei Grazie E buona serata A tutti Grazie 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 Grazie